Gentili telespettatori, un bentrovati da Andrea Di Pre vi giunge da un luogo incredibile dove sono custoditi alcuni dei capolavori più significativi dell'arte di un grande maestro contemporaneo. Un istinto iconoclasta, popolano, popolarisco, su una mano, su una mente realmente geniale, quella del grandissimo Giacomo De Michelis, artista che sta infiammando le platee di Mezzomondo. Ma attenzione, oggi per voi, per i grandi collezionisti, avremo delle opere inedite, opere collezionate con grande intuizione da Gianna Mutti, che è qui con me, che posso subito salutare. Gianna, piacere intanto. Piacere, piacere. Allora, con te oggi grande vetrina d'arte, ma anche di storia, di conoscenza. Di storia, di conoscenza, sì, molto. Ecco, allora noi vi mostreremo alcune opere di De Michelis, voi chiamate per conoscere, per fare la vostra proposta, per cercare di confermare le opere che vedrete e Gianna vi dirà come ha conosciuto il maestro, quando l'ha conosciuto, con alcune sorprese anche letterarie legate al talento di De Michelis. Allora, Gianna, quando hai conosciuto De Michelis? Io l'ho conosciuto nell'89. Eravamo giù a Cala Galera e lui era lì in villeggiatura. e noi avevamo degli alloggi e ristorante e lui veniva a mangiare e dormire e viveva praticamente, ha vissuto con noi quasi due anni. E lui, in riconoscenza... Nella sua vita buona, capite? Nella sua vita buona, eh. Allora, ci sono due cose importanti perché De Michelis ha molti emiratori. Vedete, Gianna, oltre ad avere questi padri superbi che fra poco vedrete, quello a nostre spalle è anche uno stupendo motivo equestre, ha una critica del tempo di Ugo Moretti, dove si dice alto, magro, con l'occhio penetrante, quasi pungente, il gesto nervoso, la battuta pronta su De Michelis. Però vorrei subito che Gianna ci proponesse, perché De Michelis, questo non ve l'ho mai detto, è anche un grande poeta, un bambocciante, possiamo dire, nella poesia anche, legato agli aspetti più tragici, più poveri, più popolani. Ed è normale quindi che, per esempio, la prostituta sia al centro della sua indagine letteraria. Sentite, ecco, cosa ci proponi, Gianna? Una poesia... Una poesia in romanesco, però, eh, che io non saprò parlarlo bene e neanche leggere, però cerco di spiegarvi che poesia ha fatto. Al funerale delle battone. Sono tutte riunite affrante intorno a lei, che con la morte ha smesso di soffrire. La sera andava sempre nei viali a lavorare, con sorriso sulla bocca e tante amare lacrime and del cor. Eh, boh, è romano. Venneva tanto amore, per due o tre mila lire, venneva tanto amore e forse pure la felicità. A casa, poi, pagava quel pappone, in cambio, né d'affetto interessato. Da lei, povera mignotta, sinceramente ricambiato. Così comprava amore, intriso da verità. Senza riuscì mai a comprare, né inticchie di felicità. Con lei, destino è stato sempre avaro. Ne ha dato mai un cazzo per regalo. Ne ha fatto paga, sempre tutto caro. Adesso è morta, e l'ha voluto lei. Forse perché così se ne potrà sdraiare, per riposare senza lavorare. Sono tutte intorno a lei e a piagne le mignotte gelose di vedella. Finalmente tranquilla, riposa, sorridente. Giacomo De Michelis. Poesia di Giacomo De Michelis, il funerale proprio della battona. Ecco, avete sentito, guardate che c'è parecchio da invidiare a De Michelis anche come poeta. Questo è molto importante. Però adesso, signore e signori, guardate i capolavori che vi presentiamo. Già, partiamo proprio da questo motivo e questo. Guardate il movimento circolare De Michelis. Grande profeta, scattante, nevrotico, come ha detto Moretti anche nella sua recensione. Questo gesto, sincopato, grande maestro, capace di diversi registri. E poi ancora, guardate, qui abbiamo, lo sapete, De Michelis è famoso per il suo basico istinto per la seduzione femminile. Guardate che capolavori, che quale... Sono contento perché con questo maestro realmente stiamo per riproporre... Ecco, lo inclino un attimo perché c'è il vetro, grazie regia. Stiamo per riproporre una epopea simile a quella di Mario Schifano. De Michelis è così, guardate la sua, la forma. Gianna, è più una grande opera. Sì, sì, una grande, per me, una grande opera. Io sono affezionata non tanto ma anche per l'affezione che ho contro il maestro. Questa te l'ha consegnata proprio nel periodo... Nel periodo che lui viveva praticamente con me e mio marito. Ecco. E stava lì e non aveva lavoro e faceva stiemi e poi ce li ha regalati come simpatia. Dietro c'è simpatia per Gianna, simpatia... Con le varie spiegazioni. Con le varie spiegazioni. E ancora, e ancora, continuiamo. Vediamo ancora un'altra opera. Ecco qui. O questa magari che è uguale. Ecco, sì, dopo ne vediamo un'altra sul tema femminile, ne vediamo un'altra. Qui sull'aia, vedete? Sull'aia. Anche qui vedete i motivi, ecco, legati proprio agli aspetti agresti, semplici, basici, istintivi. Anche questa è l'opera di Giacomo De Michelis. Attenzione, opere autentiche del sommo maestro romano. Giacomo De Michelis, vedete? Poeta, artista, personaggio unico. Guardate la bellezza di questi capolavori d'epoca. e l'immagine, il brano, la letteratura proprio di questi spazi, il mulino, il cavallo. È veramente un grande, un artista impressionante. E devo dire che Gianna ha deciso così di, così, instaurare questa vetrina televisiva anche per solleticare un po' l'interesse del pubblico. Però sono quadri ai quali è realmente legatissimo. Affezionata. Quindi dovete immaginare, però oggi giustamente è giusto un po' l'interesse. Giustamente, ecco. Stavo a vedere anche in quadri che può. Poi, vediamo un attimo adesso il tema del, ecco, lo mettiamo qui in mezzo a noi, teniamolo su insieme Gianna un attimo, perfetto, così, benissimo. Guardate. Ecco, qui ancora una volta, lo alziamo ancora un attimo, torna il tema, ecco, lo abbasso un attimo così, torna il tema della donna, della figura femminile, vedete anche in questo caso. Questo è il De Michelis che si trasferisce in un transfert atropologico totale verso la figura femminile. Lo sapete, le sue teorie sulla femminilità che qui emergono potenti in quest'opera. Per lui è famoso anche per queste figure, lo sapete, per il Previso degli Dei, per esempio, queste immagini che lui va a creare, a rappresentare. Anche questo è un pezzo straordinario, veramente anche... Quindi siamo in che... vediamo in che... Ah, dell'89, l'89 questo. Sì, 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 sì. Noi eravamo giù nell'89 e lui viveva con noi, cioè era un grandissimo amico, veramente simpatico, molto onesto, molto preciso. C'è una persona da ammirare in tutti... ecco. Vediamo anche questo, guardate. Anche qui, vedete, anche... L'abbasso un attimo così, grazie a Regia, sempre, perché c'è il vetro davanti, il copro è incorniciata. Vedete il cavallo qui metafisico che sembra affiorare dalle nubi. Ecco, qualcuno ha acutamente osservato che queste opere sembrano proprio richiamare l'inconfondibile timbro della poetica, della grammatica pittorica, per esempio, di De Chirico o di grandi artisti dei cavalli. Effettivamente De Michelis riesce in queste forme, in questa rappresentazione. Opera anche questa è importante, la chiamiamo per il vetro, ecco. Poi, benissimo, allora voglio anche mostrarvi, sempre di proprietà di Gianna Mutti, abbiamo due opere di Romano Mussolini. Allora, ecco, di questo artista invece anche questo l'hai conosciuto, giusto? Sì, benissimo, anzi, era molto gentile, mangiava anche lui quando veniva giù a suonare, perché lui suonava Jacks e faceva pittura e mangiava con noi, come se fosse un nostro parente, ma di un'umiltà, di una simpatia che ne bastava. E così, prima di andare via, ci ha regalato due Piero, uno a me e uno a mio marito. Ecco, due delle sue figure, dei suoi pagliacci tipici, molto particolari e complessi questi, quasi a indicare la complessità dell'esistenza, della vita. Ecco il Piero, figura straordinaria, opera qua di Romano Mussolini, 1989, anche questo, anno cruciale per la collezione di Gianna, e vediamo anche l'altro che costituisce la stata di Endiadi, con il precedente, vedete, anche qui, cruciale. Mi piacciono moltissimo, perché gli occhi, dove si va, seguono, veramente, ti seguono, dove sei lì, ti guardi, vai là, sì, è bellissimo, cioè, e poi gli ho voluto bene a Romano, siamo stati molto amici, ecco, veramente. Anche qui sono i ricordi, capito? Ricordi, i ricordi, sì. Io perché ho voluto anche, a parte il piacere di avere qui Gianna, però mi faceva piacere farvi notare quanto questa collezionista anche abbia conosciuto di persona sia De Michelis che Mussolini, e quindi sono opere che vengono direttamente, sono documentabili, a parte tutta la spiegazione. Quindi, allora, il mio consiglio, chiamate il numero in onda, vi diranno come fare per vedere le opere, sicuramente Gianna è disposta, anzi è a piacere, a sentire le vostre offerte, proposte, però sappiate che sono opere particolarmente importanti da un punto di vista tecnico, storico ed affettivo. E quindi, insomma, capite, ecco, però, giustamente, torniamo ancora una volta sul capolavoro di De Michelis che è alle mie spalle, perché questo mi consente di farvi capire come, stai sempre pure qui Gianna, tranquillamente qui, come De Michelis sia realmente un monarca del disegno, della forma, perché, sapete, per un pittore riuscire a vedere questi quattro, la libertà di questi quattro cavalli liberi, straordinari, immersi in questo deliquio sul blu, un'opera, ecco, su questa tempesta, vedete anche, proprio l'idea del movimento, forse così, come la vita di De Michelis, una tempesta continua, fatti momenti diversi, ecco, però su tutto l'arte, l'arte che trionfa. In De Michelis, e anche in Muzioni, l'arte ha trionfato, e io mi complimento ancora con Gianna Mutti perché è riuscita, perché lei l'ha fatto questo con i suoi cari, a intuire la grandezza di questo poeta-pittore, e quindi oggi si ritrova con questa collezione invidiabilissima delle opere, grande De Michelis, attenzione, opere dell'artista, sempre più rare da trovare, molte sono in America, nelle collezioni più nate di grandi attori americani, e quindi avete l'occasione di avere opere storiche, anche per me è una sorpresa graditissima, di trovare un maestro, una persona straordinaria, un uomo, come tu dicevi, straordinario, ma ecco, un grande... Sì, sì, un grande maestro. Allora Gianna, aspettiamo le telefonate, con la massima tranquillità, va bene? Certo. Avete visto anche, e ti ringrazio anche perché ti sei improvvisata, oggi anche... A leggere il romano, veramente... Nessuno lo capirà. Lei che è berganasca, proprio doc, ecco, bravissima, però sei anche un'attrice perché riesci a... E nel modo migliore. Allora Gianna, possiamo dire che aspettiamo le telefonate. Grazie, con molto piacere. Quindi, oggi vi daremo informazioni sulle misure, dettagli, aspetti. Quello che mi interessava farvi notare è che ho trovato finalmente chi ha dei capolavori del maestro De Michelis, perché non dimenticate che molte le sono state perdute per sempre a causa di terremoti e di altre cose. Terremoti, alluvioni, ho saputo, alluvioni, gli ha portato via tutti i quadri, poverino, però è un grande maestro. Un maestro assoluto e sono tantissimi, anche fra i giovani che lo seguono. Che lo seguono, mi fa piacere. Io veramente sono legata a lui perché abbiamo vissuto... Esatto, anche per un motivo. Gianna, grazie perché ci hai permesso di documentare... questa grande vetrina. Ai collezionisti, lo dico ancora una volta, approfittatele perché questa è una collezione realmente unica. Firmata Andrea Di Pre, firmata Di Pre TV. Grazie. A posto, grazie. Perfetto.